Giuseppe Conte In tema di lavoro Giuseppe Conte ha spiegato che, bisogna offrire ai lavoratori una settimana più corta. Poi Conte ha spiegato in che termini e con quali equilibri, però lo dobbiamo fare intelligentemente, non mettendo in difficoltà il mondo produttivo ma ribaltando la prospettiva per incrementare la produttività, che è il grosso problema del sistema Italia. L'altro tema caldo e resta quello del salario minimo, e Conte ha detto, la battaglia per il salario minimo è un punto nevralgico per il M5S, abbiamo 4,5 milioni di lavoratori con paghe da fame. Così come, la battaglia sul lavoro è essenziale, così come deve diventarlo quella per il congedo di paternità. Poi il presidente dell'M5S ha fornito un po' di dati europei, se noi confrontiamo i nostri dieci giorni, che sono una piccola conquista, con i sette mesi della Finlandia, con le settimane concesse in Spagna e Svezia il nostro risulta un passettino veramente modesto rispetto ad altre soluzioni. La chiosa è stata sul DDL ZAN, quella sulla legge contro l'omofobia per noi è stata una battaglia assolutamente importante, a cui abbiamo contribuito, e continueremo a mantenerla alta.